Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai, A-S-M-A. Questa sera, come avrei detto dal titolo, Chit Chat Gossip richiesto da voi con questo microfono, da voi, da te creatura, da te, da te che mi stai guardando adesso, da te, ha richiesto un bel Gossip, Chit Chat, con questo microfono. Quindi, indosso le cuffie, iniziamo ovviamente. È ovvio neanche lo dico, ma lo dico lo stesso. È il solito Gossip sulla bara, la nostra serie preferita di YouTube, perché la vediamo come una serie e non come vita reale. Perché, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere tutto recitato. È la solita premessa. Ok, per raccontarvi questi Gossip, mi baso sulle cose che la creator pubblica su YouTube e sui suoi social. Però, ovviamente, poi, do un parere personale. Quello che dico non è la realtà assoluta. Cioè, fatevi anche una vostra idea. Fatevi anche un vostro parere personale, ecco. Ci tengo a specificare sempre queste cose. Non sto dicendo che è così e basta. Potrebbe essere così come dico io, ma potrebbe essere anche come dice lei o come pensi tu, creatura. Ovviamente sei libera di commentare e mettere il tuo punto di vista sulla faccenda. Allora, dall'ultimo video, se non sbaglio, eravamo rimaste, nessun successo di ogni, eravamo rimaste che... Dove siamo rimaste ancora che la gourmet, oddio, devo ricordarmi, tutti i soprannomi. E la gourmet era scappata di casa, tipo, senza prendere il caricabatteria. Ah no, aspetta, quello era un altro, era un Giuseppolo, quello. Eravamo rimaste all'altro l'espo-drama, che mi stanno appassionando molto di più dei gay drama, attualmente. Poi aveva fatto, avevamo parlato, o forse no, aveva aperto un e-commerce, che era un negozio dove online, un sito dove praticamente acquistava dei prodotti e poi li rivendeva, penso che ne abbiamo parlato, li rivendeva a caro prezzo. Io, eh, credo che ne abbiamo parlato di quello già, non mi ricordo, comunque facciamo finta che siamo fermi da lì. Lei c'è praticamente... Poi ti leggo anche delle sue storie che mi hanno fatto troppo amuri da ridere, dove risponde a delle domande. Mi sembra di parlare, tipo, mi immagino che siamo, tipo, a letto, o magari a un pisiamo a party, no? E ci sussurriamo questi cosi, ho mai visto cosa è successo, ho mai sentito cosa ha detto, ho mai sentito cosa ha detto, ho visto di notte, prima di dormire. Allora, diciamo che lei, la pala si è lasciata con la gourmet in monomoto, poi la gourmet aveva fatto quel video dove raccontava, ti ricordi, la sua versione dei fatti? Sì, diciamo così, dal suo punto di vista, è da notare quanto cambiano le situazioni quando ognuno descrive cosa è successo dal proprio punto di vista, cioè a volte sono delle storie completamente diverse. E vabbè, allora, la pala ha una nuova fidanzata, che lei ci tiene particolarmente a chiamare fidanzata, oppure compagna, e lo specifica in ogni video, ogni secondo, c'è questa ossessione, c'è me lo specificare perché, boh, non lo sappiamo, è molto orgogliosa forse di questa relazione, anche se in realtà diceva le stesse cose carine della gourmet, quindi, boh, non si sa, con ogni compagna o compagno che si ritrova, le piace proprio ostentare, ecco, questa sua felicità, e noi sappiamo bene che chi ostenta, ostenta sempre qualcosa che non ha, però lasciamo perdere. Allora, perché se sei felice non è davvero, non hai bisogno di ostentarlo, dimostrai qualcosa a qualcuno, se sei felice basta, invece chi deve sempre ostentare qualcosa, le cose, puzza un po' di mandorle bruciate. Allora, insomma, tempo record, dopo tre giorni, che si sono lasciate, lei aveva già una nuova ragazza, una nuova compagna, però si contraddice, perché no, ma loro si sentivano già da mesi, vuol dire che, finché stava con la gourmet, lei si sentiva già con questa, stava già smurosando con questa, quindi... Insomma, se io avessi una compagna che, finché sta con me, smurosaggia con altre, la cosa non mi piacerebbe tanto, ecco, perché lei fa sempre intendere che i suoi ex l'abbiano tradita, così così, poi è lei che fa queste cose, poi ci dico, ok, molto strano, non lo so, mi puzza un po' di mandorle tostate. E allora, cos'è successo? Tempo record, dopo tre giorni, lei stava già fidanzata, anche se appunto diceva, no, io non mi innamorerò mai più, immagino, no, tipo, teatro, greco, non so, non cos'è. Già, era già tutta, tipo, oh mio Dio, non mi innamorerò mai più, non mi fiderò mai più di nessuno. E invece, dopo tre giorni, si fidanza già con questa, che tutti chiamano Pasquopola. Pasquopola, e con questa Pasquopola, penso che abbiamo già parlato di questa Pasquopola, perché io la chiamavo Pasqualopola, ma dopo mi sono adeguata anch'io e la chiamo Pasquopola. Pasquopola, e insomma, doveva essere una relazione antisocial, perché doveva avere annunciato che non l'avrebbe mai portata in video. E, nei video, e questa persona non era una persona social, e invece, guarda un po' un'altra contraddizione, che strano, e, è diventata praticamente la protagonista di ogni video, questa Pasquopola. che, per chi se lo stesse chiedendo, Pasquopola è, questo soprannome l'ha acquisito, perché è stata, diciamo, presentata ufficialmente il giorno di Pasqua, dove si conoscevano in teoria da pochi mesi. E già l'aveva portata in famiglia, perché lei aveva detto che avrebbe fatto le cose con calma, perché questa volta avrebbe fatto tutto per bene, e invece aveva fatto quasi più in fretta che con la gourmet, per dire, ecco, con l'unica differenza che non ce l'hai portata subito in casa a convivere, ma penso che manchi poco. E, hanno iniziato a, finalmente, a uscire, è un'unica cosa che un po' dispiace, che parcheggia le figlie da qualche parte, non c'è da tutto sapere dove, si presume siano parcheggiate, tra virgolette, dai nonni, e inizia a fare una serie di viaggi in treno, che fino a due secondi fa lei aveva paura, e, magicamente, quando deve andare da Pasquopola, tutte le sue paure svaniscono, finalmente, e inizia ad andare a casa di questa Pasquopola, una casa veramente bellissima, con la piscina, insomma, ottima scelta parati, te la scegli sempre proprio, te la scegli sempre molto bene, ecco, diciamo così, iniziamo a vedere una serie di video di solo lei e la Pasquopola, e, sbucca fuori, si, sblocca, un nuovo personaggio, che, spoiler, è il mio personaggio attuale preferito, perché io, ogni volta che guardo una serie, un film, o qualsiasi cosa, devo avere il mio personaggio preferito, non so se questa volta succede anche a te, comunque, il mio personaggio preferito è Steve, cioè, guarda, si, Steve, lo chiameremo Steve, che è la sorella di Pasquopola, anche se il soprannome, diciamo, ufficiale, che danno le followers, che segue, che lei li chiama le haters, ma in realtà sono tutte followers, perché nessuno la odia, seguiamo solo la vicenda in modo molto appassionato, e commentiamo, che se fosse furba, invece di chiamarle haters, dovrebbe chiamarle followers, dovrebbe anche scherzarci, cioè, finalmente qualcosa si sta sbloccando, perché è anche la Cognatopola, che viene chiamata la Cognatopola, che è la sorella di Pasquopola, perché, appunto, la Para ogni tanto chiama Pasquopola fidanzata, accompagna, ma addirittura moglie, e quindi la sorella della moglie, no, è la Cognata, e quindi lei dice, mia Cognata, mia Cognata, mia Cognata, e la chiamo sempre mia Cognata, che è il mio personaggio preferito, che secondo me può sbloccare qualche situazione molto simpatica, che ha già sbloccato effettivamente, ma io ho grandi aspettative nei suoi confronti, quindi mi aspetto ancora di meglio, ce la puoi fare, sarai la protagonista di questa serie, dal mio punto di vista, e la best, il best personaggio ever, è un personaggio secondario, ma con un forte carattere, mi piace, bella presenza, ci stale a tutte, e quindi io la chiamerò Steve, perché hanno fatto un video, praticamente hanno iniziato a fare una serie di video, di vlog, dove erano la nuova felice coppietta, più Steve, e uscivano sempre loro tre, e lei sembrava sempre il prezzemolo, no, in mezzo, in ogni situazione c'era lei, mi fa morire da ridere, ma lei è proprio simpatica, perché scherza, non è come la para, che prende tutto sul serio, si arrabbia, le persone che descrivono le sue situazioni oggettivamente, le chiamano haters, cioè gli haters sono quelli che ti prendono a parolacce, ti offendono, ma se tu fai una cosa e io ti commento quella cosa che appena ho fatto e detto, come faccio a essere haters, per lei i follower sono solo quelli che gli mettono i coricini, e gli dicono che è brava, che è bella, eccetera, eccetera, e ho un sacco di persone nel regno che mi dicono le cose in modo educato, magari mi danno qualche consiglio, eccetera, eccetera, e lei queste persone le chiamerebbe haters, ma invece sono questi i follower, secondo me c'è lo scambio di opinioni, i consigli, poter vedere altri punti di vista e ragionare su queste cose, perché se centomila persone ti dicono, ma guarda, forse non era il caso di all'inizio portare un estraneo a casa tua, magari forse poteva venire un campanello dall'allarme nella sua testa, no, tutti haters, lei, solo lei aveva ragione, poi l'ha preso in quel posto, e allora, sono ancora haters, sì, secondo me, vabbè, insomma, per dirlo, e, va bene, comunque, stiamo parlando di Steve, hanno fatto un TikTok simpaticissimo, secondo me, io ho riso troppo quando l'ho visto, perché appunto tutti commentavano, ma dei video tra solo di voi due non riuscite a farli, che dovete sempre portarvi dietro con la topola, e, o, se per loro va bene, stare i loro tre, cioè, che c'è di male, fa ridere, sì, la situazione, però, cioè, io non ci vedo niente di male, però, appunto, mi fa ridere, appunto, questa ragazza, che è super simpatica, e, appunto, ho fatto questo video, questo TikTok, dove, ecco, c'è quella mogliottia, che sono praticamente, loro due, poi, quando c'è Steve, e viene fuori, il cognato popola, insomma, che, però, fa ridere, parlo a chiamarla Steve, e, se ho un cane che appaia, sarà a Roma, perché questo microfono capta anche le scuregge, le gente a Firenze, per dire, e, niente, insomma, e, niente, insomma, fanno questo video simpatico, poi, in alcune situazioni, ho visto che Steve, chiamano la sua sorella, pascuopola, e, queste cose, io sono, è come la vivrei io, la situazione, che sto vivendo la para, cioè, ci scherzerei su queste cose, e, scherzandoci, secondo me, potrebbe anche, ce la prende troppo sul serio, fa troppo la Dio, fa troppo quella, mio Dio, cioè, se la vivesse più con, scherzando, sapendo che YouTube è, puro intrattenimento, quindi, quello che tu mi mostri, potrebbe essere la realtà, ma potrebbe anche, prenderci tutti, e per i fondelli, no, potrebbe essere un personaggio, che, trolla, e, se la vivesse più, così, anche se, da quello che ci ha fatto capire, è la realtà, purtroppo, però, potrebbe anche, venire fuori, colpo di scena, io, 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 ho trollato tutte, e, è tutto, vinto, e, e scherzare, chiamare, i soprannomi, che usano i follower, perché, ripeto, non sono haters, verrebbe una cosa, mega divertente, secondo me, un po' di autoironia, ecco, si prende troppo sul serio, ci vorrebbe un po' più di autoironia, come a Steve, infatti, che poi Steve, e la, la sorella, da scopolo, si è scoperto, fossero, delle sue fan, già da tanto tempo, quindi, lei si è fidanzata, con una sua fan, mamma mia, che ridere, queste cose, mi fa un po', mi fa un volare, e, adesso, sto facendo, una serie di video, molto carini, anche se, vabbè, alcuni sono privi, di contenuti, ma, la vedi che lei vuole, comunque, portare qualcosa, anche se è in vacanza, ed è in vacanza, dalla compagna, dalla fidanzata, come dice lei, ecco, 10.000 Z, da Vascopola, e, sono appunto, in questi posti, meravigliosi, e, ha deciso di restare di più, e, si parla già, che devono dare, degli annunci, importanti, allora, qualcuno sta, pensando, forse, che, eh, potrebbero, andare a convivere, dal mio punto di vista, mi piacerebbe, che lei si spostasse, perché, le vedo molto più felice, lì, in quel posto, adesso, magari, perché sono in vacanza, però, eh, decisamente, le bambine, starebbero meglio, in un luogo, bellissimo, quel posto lì, ah, sia la campagna, che il mare, la spiaggia, la piscina, cioè, lì, secondo me, starebbero da dio, lei potrebbe, anche, spostarsi, perché, non ha un lavoro, in un ufficio, fisico, cioè, nel senso, fai video, su youtube, lavora sempre, da casa, quindi, se, 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 dovesse andare, magari, nell'agenzia, potrebbe fare, delle call, come dice lei, o delle videochiamate, oppure, se è per una volta, ogni tanto, potrebbe, prendere il treno, andare lì, solo per, fare, non so, qualche, l'unione, e poi tornare indietro, e, invece, le bimbe, vabbè, dovrebbero, dovrebbero, dovrebbe, scriverle, in un'altra scuola, diversa, però, però, finché sono piccole, si potrebbe, ancora fare, secondo me, se davvero, questa relazione, eh, perché, insomma, però, sono da poco, insieme, quindi, cosa fai, cambi completamente vita, eh, per, per, per provare questa convivenza, che già sono insieme, da pochi mesi, cambi totalmente, te la rischi, oppure, potrebbe succedere, che si lasciano, e, cosa hai fatto, hai cambiato tutta la tua esistenza, per, per questa, relazione, così, acerba, diciamo, che è, non nata da poco, e, oppure, dovrebbe chiedere, alla Pascopola, di trasferirsi, da lei, cosa fai, la togliere, tipo, mi sembra, di no, che la tolgono, dalle montagne, la portano in città, quale, io non me la sentirei, di portare in città, in un posto, come Roma, che è anche, importante, nel senso, che, tra, un mega trafficato, pieno di inquinamento, sporco, l'ho vista, tra i mondisti in giro, la togli da quel paradiso, e la fai a portare a Roma, non lo so, mi sentirei un egoista, io, poi, quindi, anche lì, lo so che, anche perché, Pasquopola, ha un suo lavoro lì, quindi, fisico, non lavora su, da casa, ecco, che non è una cosa che puoi fare, ovunque, e quindi, boh, vediamo adesso, sempre se è vero, che conviveranno, però, che andranno a convivere, però, insomma, questo è quello che, si vocifera, e pensano, che sarà il prossimo annuncio, anche se, in alcuni video, sembrava, devo fare l'annuncio del secolo, invece poi era, che sarebbe, rimasta lì, una settimana in più, in vacanza, vabbè, vabbè, comunque, è l'annuncio del secolo, dei comuni clickbait, lei, ce, ce, squazza, bravissima, è molto più brava di me, con i titoli, io faccio dei titoli, no sense, praticamente, anche se poi, c'entrano molto di più, con il contesto del video, che i suoi, però, vabbè, e, poi c'è stato, si è sbloccato un nuovo personaggio, ma io non sono centrata, perché quando parlo di qua, sparisco, e quando parlo di qua, c'è un sacco di spazio, così, va meglio, c'è sempre questa ansia, della prestazione centrale, mi dovrò, cercare, se in impostazioni, ho la griglia, lì, per i centrali, vabbè, comunque, c'è un nuovo personaggio sbloccato, ovvero, la ex, di la scopola, che, all'improvviso, all'improvviso, spucca fuori, spucca fuori, da non si sa dove, faceva intendere delle cose, che poi dopo, tornata a cercare di capire, la situazione, perché, all'inizio, sembrava che nelle storie, dicesse che, già faceva intendere, secondo me, che, la para, aveva fregato, la sua ragazza, invece, poi si scopre, che erano, si erano già lasciate da un pezzo, e, non ho ben capito, questo ritorno, però, a questa ex, che chiamano, lei copula, perché, ho ex, ex opula, ex opula, forse anche, però, ex opula, si fa confusione, perché ci sono troppe ex, e secondo me, si fa confusione, però, like opula, perché, praticamente, lei ha detto, che non cercava la fama, però, intanto, mettete, lasciate like, e allora, adesso, voglio anch'io, le collaborazioni, voglio guadagnarci, anch'io, su sta cosa, quindi, tipo, vabbè, non mi è piaciuto, come il personaggio, di Steve, Steve, è il mio preferito, mi è piaciuto, molto di più, come personaggio, l'ho sbloccato, invece, questo, non lo so, lascia il tempo, che trova, posso capire, se lei stia soffrendo, perché non sto, ovviamente, dicendo, che non sia così, perché ognuno ha, una sensibilità, diversa, e, insomma, lei ha spiegato, che ha fatto, delle diverse live, che poi, io ho rivisto, su TikTok, perché sono state, ripubblicate, da, dei profili, account trash, su TikTok, e, praticamente, lei, si è sentita, diciamo, un po', diciamo, presa in giro, comunque, ha visto, dell'ipocrisia, perché, quando, lei, stava con Pasquopola, e sono state, insieme, cinque anni, però, detto su, era un po', sono stati, cinque anni, di dire molla, e, la loro relazione, era tipo, segreta, perché, Pasquopola, si vergognava, o, comunque, doveva tenere nascosto, ho fatto, capire, che doveva tenere nascosta, la loro relazione, non so, tanto, se era perché, in quanto, due donne, insieme, o, se, si vergognava, di questa persona, cioè, questo, non l'ho capito, e, quindi, non, si tenevano, neppure, per mano, per strada, non, non, facevano, effusioni, anche con la sua famiglia, rotto, nascosto, e, invece, adesso, si ritrova, a vedere, questo grande amore, su youtube, su tutti i social, e, è passata da, non, eh, tengo nascosta, questa mia, omosessualità, a, mh, sputtanarsi, tra virgolette, insomma, a, mostrarlo a tutto il web, o a tutto il mondo, perché, comunque, non si sa, eh, chi potrebbe vedere il video, quando tu metti su, internet, una cosa, dopo, di dominio pubblico, tra virgolette, nel senso, che chiunque può vederlo, e, e, allora, praticamente, diciamo, che si è sentita, beh, effettivamente, da questo punto di vista, anche io mi sentirei, un po', confusa, perché, direi, ma come, quando stavi con me, era tutto un sotterfugio, era tutto fatto di nascosto, e adesso, spiattelli tutto, su youtube, sui social, come video, online, e, di vomita anch'io, però, non avrei mai contestato, però, eh, io ho capito, qual è stata la molla, che ha fatto scattare, questa reazione, e, lei doveva, aveva detto, che, aveva una cosa, era rimasta amica, di Pasquopola, e aveva una cosa importante, da dirle, la chiamata, per dirlo, e, la para, molto gelosa, ha, diciamo, detto, Pasquopola, di, non, non aver piacere, che lei si sentisse, con la sua ex, che fosse amica, della sua ex, e quindi, la ex, è passata, Pasquopola, è passata, da essere ancora amica, della sua ex, a bloccarla, a trattarla male, eccetera, eccetera, quindi, questa persona, che per lei, Pasquopola, è molto importante, perché, c'è stata cinque anni, insieme, e, e, ha detto, che le ha salvato, la vita, eccetera, eccetera, ecco, non sappiamo, che tutti questi, retroscina, però, lei ci ha fatto, ci ha detto queste cose, nelle live, ha detto che, anche lei, ha un tatuaggio, fatto, per Pasquopola, per loro, insieme, da cinque anni, quindi, è una, cioè, è tutto diverso, no? Si parla di cinque anni, non di quattro mesi, ecco, di qualche mese, e, quindi, cinque anni, possono succedere di ogni, dato che abbiamo visto, che in sei mesi, se ne sono successe di ogni, comunque, ecco la para, quindi, pensa in cinque anni, e, 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 quindi, niente, eh, si è sentita, probabilmente, male all'idea, di perdere, all'improvviso, questa Pasquopola, che era, la sua ex, ma era comunque, erano rimaste amiche, tra l'altro, poi, la, questa ex, ha ricevuto, una telefonata molto pesante, della para, che ha fatto sentire, e si può sentire, sempre, ripubblicato su TikTok, da queste pagine, trash, e, dove lei, praticamente, fa delle minacce velate, diciamo, ecco, perché tu non sai, quando potrei arrivare io, a, per difendere, le persone che amo, sono messa un po', mi sono un po', di minaccia, però, vabbè, e quindi, niente, lei si è sentita, è spoccata fuori, alla fine, perché, lei è venuto nervoso, secondo me, che ha visto questa, la para, che vuole fare tutta la, quella, quella fugina, no, tutta la brava persona, la, la dolce, la, l'unica, la vittima, di una situazione, che poi, va a minacciare, se l'è sentita minacciata, ha visto che, qualcosa, cioè, che non era come mostravano, insomma, così, e allora ha voluto saltare fuori, dire la sua verità, diciamo, ecco, la giustifico, tra virgolette, non è giustificata, ma la, contestualizzo, in questo modo, nel senso che, con, su questo ragionamento, accetto questo, nuovo personaggio, anche se non ne capisco molto, il senso, ha creato un po' di zizzagna, si, ci sta, le storie sono belle, quando c'è qualche antagonista, quando, insomma, va sempre tutto bene, bello, però dopo, diventa anche noioso, infatti, di solito, i film, finiscono con, tutti, le favole, così, e tutti, sono felici, contenti, fine, poi, non c'è un continuato, perché, ti fanno vedere, solo quando ci sono, i casini, no? Quindi, dopo, e tutti i visual, mi sono il più interesse a vedere, no? è il più interessante, se tutto va bene, per me, anzi, mi piacciono, mi piacciono molto, mi piacciono molto anche i video tranquilli, però, vabbè, però qualche colpo di scena ci sta, ecco, quindi questo è stato, diciamo, un colpo di scena, e, insomma, ci ha rivelato, delle cose, che già sapevamo, alla fine, perché, sapevamo già, della gelosia, della barra, perché si era visto, nella live, con la gourmet, che aveva fatto scatenare tutto, e, e quindi, niente, ci sta, a parire, dire, la tua, lei voleva, sfogare il suo dolore, eccetera, eccetera, però, poi dopo iniziare a, pretendere di, avere i like, seguitemi, e fatemi le domande, qua, la, mi è sembrato un po' domace, ecco, io mi sarei fermata, se proprio, mi sarei formata, al, guardate, è successo questo, quello, io voglio farvi vedere, cosa, dietro le quinte, cosa sta succedendo, qua, guardate, che lei, con me faceva così, invece adesso, fa tutta quella, insomma, ok, ci sta, ma, anche dopo, voler pretendere, di fare il like, anche un po' domaggio, ok, ha voluto un po', insomma, solo un momento di gloria, l'ha avuto, adesso penso che sfumerà, perché, dopo le minacce, quella, perché dopo ha ricevuto, anche i minacce di morte, da Pasquogola, adesso, ha detto che farà, anche uscire, questo audio, che però, ce l'ha in mano l'avvocato, quindi, di solito, quando, una cosa, ce l'ha in mano l'avvocato, non puoi, metterlo sui cioccio, quindi, non so, questo avvocato esiste davvero, non lo so, comunque, è un personaggio, posso capirlo, posso capirla, però, non è che mi piace tantissimo, come antagonista, tra cui, che mi è piaciuto di più, è stato, Nicole, che poi, non era proprio, un antagonista, però, dal punto di vista, della bara, parlando della sua, fiaba, ecco, era l'antagonista, la situazione, era molto più bello, come, personaggio, dal mio punto di vista, perché aveva il suo stile, aveva quel, sì, sono antagonista, ma non me ne frega niente, cioè, più, come più, sì, sono mio, è un antagonista, cioè, non lo so, sembrava più, mi piace molto di più, un carattere un po' più così, invece, questo, un po' anche lì, vittimismo, sempre le solite cose, che non ci interessano, gli antagonisti, devono essere cazzuti, se no, sono, lagnosi, non mi piacciono, volevo leggerti, come vedi, io la vivo, proprio come una, serie tv, come se, youtube fosse netflix, però gratuito, ecco, se la vecina smette di sbattere, tutti i tappeti dell'universo, allora, inizio a leggerti, alcune storie, che mi hanno fatto morire da ridere, perché si contraddicono, però, sai, allora, la bara, fin dall'inizio, ha sempre detto, che non avrebbe mai mostrato, nei video, e da nessun'altra parte, la pasquopola, però, però, subito, hanno iniziato a fare vlog, come se non la fosse, e infatti, anche lei, ogni tanto, ci scherza, perché, la bara aveva detto, che era antisocial, e quindi, lei diceva, sono un antisocial, e scherzavano, su sta cosa, questa cosa, mi ha fatto ridere, e, e la domanda, che ha ricevuto, su Instagram, è stata, perché, pasquopola, non accetta le richieste, la vediamo spesso in video, e ci piacerebbe seguirla, perché pasquopola, non è social, però, casualmente, appare su tutti i video, sui, di Youtube, che comunque, Youtube, è una piattaforma social, quindi, o sei social, e quindi, fai video, ti mostri, in web, o non sei social, e non hai nessuna piattaforma, nessun social, cioè, non sei una cosina, e, e, questa, c'ha pure, anche l'Instagram, però, l'ha messo privato, appena si è fidanzata, con la bara, e, perché all'inizio, ce l'aveva pubblico, perché l'avevano, scamata, e, la, mi avevano mostrato, su profilo, quando ero, ancora pubblico, io l'avevo già vista, prima che, svelassero, il, il suo volto, su Youtube, e, allora, è risposta, perché non è un personaggio pubblico, tesoro, anche se la vedete, nei video, non significa, che voglia far parte, del web, in modo attivo, scusa, non ho capito, che senso, cioè, non vuole far parzelle, web, in modo attivo, però fa dei video, su Youtube, in che senso, cioè, l'ho capito, vabbè, e, sul suo profilo, le sue cose personali, dei suoi affetti, che giustamente, vuole mantenere privati, ma se abbiamo visto tutto, del caso sua, e sua sorella, e tutto lì, accaduto nei video, in che senso, c'è differenza, tra il comparire, nei miei video, ed essere effettivamente, un personaggio pubblico, cioè, fanno le live, su TikTok, limonano, nella, nella, piscina, cioè, c'è visto ogni centimetro, ma qua, però, c'è differenza, c'è differenza, tra il comparire, nei miei video, ed essere effettivamente, un personaggio pubblico, eh, no capito, vabbè, forse sono stupida io, che non ci arrivo, può essere, no, fai le live, dove parli con i fan, e tutto, ma non è un personaggio pubblico, no, certo, c'è, c'è, c'è di auto, ha molto senso, poi, le hanno chiesto, chi ha, chi ha chiesto, di uscire all'altra, e ho volato, quando ho letto, questa risposta, la scuobola, l'ha chiesto a me, più che chiedermelo, si è catapultata, ma è stato un bene, perché io ero fuori di me, e se non avesse, insistito tanto, fin da subito, non saremmo qui, ero, inarrivabile, ero chiusa, a riccio completamente, ma ripeto, i suoi modi, mi hanno completamente sciolta, praticamente, tre giorni dopo, che si era lasciata, con la gourmet, lei, ha iniziato, uno, ha fatto un video, dove diceva, che lei, non sarebbe più uscita, con nessuno, non si sarebbe mai, più aperta a nessuno, ma contemporaneamente, sui G, scriveva, tutte le libe, eh, chi vuole venire in disco, con me, facciamo serata, tra le L, mi fa ridere, che ci sono un sacco, di personaggi, online, persone, diciamo, diciamo, personaggi, che cambiano, personalità, in base al social, non so se, l'hai notata anche tu, questa cosa, l'hai notata, con varie persone, che in base a, eh, ok, su YouTube, mi faccio vedere, la vittima, sacrificale, e così, mi danno, le visual, il contettino, i convitti, eccetera, eccetera, su Instagram, mi faccio vedere, la dura, la feca, su TikTok, cambiano personalità, insomma, così, e, e quindi, che senso, eh, lei era inarrivabile, su YouTube, su IG, invece, eh, usciva, ha iniziato a uscire con, chiedeva a tutte le tipe di uscire, così, vabbè, quindi, mi ha fatto ridere, in più, già si sentivano, quindi, poi c'è stata questa domanda, da quanto tempo, era fatta il single, perché inizialmente, lei per pararsi un po' il poppy, diceva che lei, eh, perché tutti dicevano, ma cacchio, ti sei appena lasciata, già stai con un'altra, no, ma noi, io ero già, mi ero già lasciata da mesi, invece i video, dimostravano che a dicembre, ancora stava con, eh, bestemio, eh, quella gourmet, detta bestemio, appola, allora, lei ha risposto, io so troppo poco, quindi, adesso lo ammette, la mia, la mia ultima relazione, si era conclusa, negli ultimi giorni, di novembre, la mia ex, se ne andò, ai primi di dicembre, infatti, ero piena di paure, e solo una personalità, come quella di, Pasquopola, ha potuto smuovere, qualcosa in me, ero convinta, che l'amore, non facesse per me, e che sarei rimasta sola, avevo paura, definitivamente, di tutti, dopo tre giorni, che ci sono fidanzata, queste paure, che passano così, come a batter, un batter d'occhio, cioè, beh, beata lei, insomma, che ha, che ha queste paure, così, flash, a noi ci vogliono, anni di terapia, lei invece, così, e vabbè, siamo tutti diversi, per fortuna, e invece, Pasquopola, era single, single da tre anni, da dicembre 2020, per scelta, degli altri, no, sei la pazza che si fa, sono single da scelta, degli altri, è rimasta, no, aveva lasciato, la ex, di cui, che poi si era sbloccato, il personaggio, è rimasta completamente da sola, volutamente, perché ha fatto, un percorso personale, lei, la, la, quello che è dove, aveva dovuto fare, anche la para, ma vabbè, ha fatto un percorso personale, nel quale è cresciuta tanto, e ha lavorato tanto, su se stessa, prima di intraprendere, una nuova relazione, insieme a me, eh, brava, Pasquopola, ma la para, che dopo tre giorni, stava già, vabbè, shh, non c'è da sapere, poi, c'è stato quest'altro commento, che è l'ultimo, che ti leggo, ma è un caso, che tu, e Pasquopola, avete lo stesso tatuaggio, praticamente, la para ha tanti tatuaggi, e tanti dedicati a Excel, che, vabbè, vabbè, non siamo niente, io, no, non ho tatuaggi, metteresti un, che stico su una Rolls Royce, no, quindi, direi che io non ho tatuaggi, ma, eh, la para, invece, ha tantissimi tatuaggi, anche tanti dedicati, a gente, a cui ha professato amore eterno, poi, dopo tre giorni si è lasciata, ma, vabbè, ma è un caso, che tu, e Pasquopola, avete lo stesso tatuaggio, che è quello con, tre X, che non so, tre X, non so che significato abbia, scritto, no, nessun caso, ormai lo posso svelare, Pasquopola, se lo hai fatto per me, mesi fa, allora, io mi ricordo, che, al, la festa di compleanno, ho una festa, di carnevale, di carnevale, era, qualcuno, lei, eh, Pasquopola, era già, era già, lì, che lei, facevano promesse a Mignolino, quelle robe, quelle cagatine, che fa lei, da 14 anni, vabbè, e, e, eh, già lì, avevano visto, che lei aveva questo tatuaggio, ciò significa, e allora, tanti hanno detto, ma no, ma saranno coincidenze, eccetera, eccetera, perché uno si pensa che, allora, si sono conosciute, si sono messi insieme, subito dopo, che la, che la curma è andata via, a dicembre, quindi, dopo due mesi, lei si era già fatta il tatuaggio, perché, queste cose mi fanno un po', mi fanno, tipo, inquietanti, sono inquietanti, dal mio punto di vista, perché dopo due mesi, ti fai già un tatuaggio, che dovete restare lì per sempre, per una persona, che hai conosciuto su web, che hai visto i video, già, già dal video, io, già vedendo, tutte queste, ma loro piacciono, questi drama, lesbo drama, per loro, è pane per loro, comunque, tempo due mesi, e già aveva il tatuaggio, che poi noi, ci siamo accorti, che era lì, ma chissà da da quanto, ce l'era già fatto, vabbè, comunque, c'è stato anche un colpo di scena, che la ex di Pasquopola, ha detto, che Pasquopola, quando stavano insieme, per fidanzarsi, non lo so, le aveva dedicato, ma canzoni della para, quando l'ha saputo, madonna che cringe, e dopo, si è messa insieme alla para, cioè, la voglia, aveva dedicato anche a lei, la stessa canzone, la canzone della para, stata dedicata, da Pasquopola, alla sua ex, sto male, quindi, era a sua fangia da tanto, ecco, e finalmente, è riuscita a fidanzarsi, con la sua, idola, comunque, Steve, best personaggio, cioè, voi dite quello che volete, nessuno mi farà cambiare idea, quindi, adesso siamo fermi, che, io sono alla puntata, adesso, poi vedremo più avanti, cosa succederà, sono ferma alla puntata, che, in teoria, devono annunciare, dei progetti, futuri, stiamo ancora aspettando, la canzone, che doveva fare, con la gourmet, comunque, Steve, suona il piano, anche, Pasquopola, quindi, vedrei bene, qualche collaborazione, musicale insieme, e, spero, non come l'ultima volta, perché, la par aveva fatto, quella canzone, mega trash, contro la gourmet, mamma mia, che trash, quella canzone, veramente, cioè, tu ti metti, con la tua, attuale fidanzata, a perdere tempo, per creare, scrivere, e fare un video, su una canzone, sulla tua ex, no, capito, perché, invece di, usi quel tempo, per stare, con la tua, nuova ragazza, invece di perderlo, per fare, una canzone, dedicata al tuo ex, tutto, tutto, inquietante, vabbè, e quindi, niente, cioè, se una persona, mi sta qua, perché, giusta insieme, ma mi ha preso in giro, totalmente, io, la cancello, dalla mia vita, cioè, ha lasciato ancora, i video insieme, perché le fanno visual, no, io, ho apprezzato tutto, tutto, comunque, vabbè, se fosse finita male, se invece finisce, per altri motivi, poi si resta amici, vabbè, ci sta, io, li lascio, poller della mia vita, perché, del mio canale, vuoi capire tante cose, comunque, vabbè, e quindi, niente, siamo rimasti, appunto, che devono annunciarci, delle cose, che magari, poi, saranno tutte le cavolate, può essere, e poi, vediamo, chi si trasferirà, dove, sempre se succederà, o sempre se non uscirà, un'altra ex, che, o se questa storia dell'ex, con le minacce, di morte, cambierà un po', le sordi, della loro relazione, perché, la para ha detto già, sono successe, degli sfortuni personali, dei problemi personali, che in realtà, era, che era comparsa, la ex, e, io pensavo, chissà cosa, invece, parlavo della ex, vabbè, secondo me, invece, non influirà, niente, a meno che, non, la para, non abbia, delle crisi, di, gelosia, cose del genere, che facciano triggerare male, la pascopola, se no, altrimenti, secondo me, restano insieme, e, cioè, spero, cioè, a me piacerebbe, che lei, andasse a vivere, dalla pascopola, perché mi piace, di più come luogo, sicuramente, molto più, bello da viverci, che Roma, che Roma ecotica, o inquinato, eccetera, eccetera, invece, lei ha dei paesi, stupendi, e quindi, secondo me, lì starebbero meglio, e, però, ovviamente, lì, sono loro che decideranno, e, anche se adesso, sarebbe un pochino presto, però, se devono proprio, fare tutto in fretta, io, opto, se posso scegliere, per le nuove puntate, mi piacciono di più, i video, in quella location, ok, anche perché, stanno facendo, di più cose, cioè, lei esce, fa due passi, tra le tene spiaggia, vanno, a mangiare fuori, al cinema, pascopola, la macchina, quindi, la porta in giro, quindi, vengono dei vlog, anche più interessanti, di quelli, che fa a casa, che sono, è sempre a casa, e fa sempre a scegliere cose, quindi, per il mio, intrattenimento, io preferirei, che le, rimanessi lì, perché, porterebbe più contenuti, interessanti, più carini, ecco, invece, di fare i soliti monotoni, e, però, appunto, le bambine, dovrebbero, essere lontano, dalla sua famiglia, ma, tanto, c'è pascopola, che può sostituire, che, se la sua famiglia, le fa tutto, invece, c'è pascopola, che può fare tutto, e quindi, si può fare, secondo me, ho visto, un video, della gourmet, mi fa strano, di chiamare la gourmet, però, vabbè, e, perché la seguo, su youtube, mi diverte, guardare i suoi vlog, è simpatica, mi sembra, anche, gentile, e, e, praticamente, dicevo, appunto, che, parlava, dell'alimentazione, ha fatto, dei discorsi, molto, sensati, e, ha parlato, della sua esperienza, delle sue sofferenze, tutto, ecco, di come ha superato, certi dolori, così, e, praticamente, ha detto, sul finale, dice, io ho cercato, di insegnare, no, alla para, diciamo, ecco, una dieta, ho trasmesso, insomma, quello che avevo imparato io, non essendo comunque, un medico, però, ho trasmesso, quello che avevo imparato, e, e, secondo me, si era visto, si era visto, che lei, che la para, stava cambiando peso, c'erano dei video, dove lei, veramente, sembra molto più magra, e, aveva iniziato la palestra, aveva iniziato, uno stile di vita, abbastanza sano, con l'alimentazione, perché mangiava, invece adesso è ritornata, proprio, è reingrassata, le ha ripresi tutti, ha smesso di andare in palestra, e ho visto che, anche Pasquopula, è una di, di bocca buona, diciamo, e quindi hanno ricominciato, a mangiare, cose da sporto, eccetera, eccetera, e, vabbè, e lì, non ho, è, lì, è difficile, cambiare, certe abitudini, quindi, lì vedrà lei, insomma, magari, vabbè, giovane, c'è ancora tempo, ancora tempo, per cambiare, magari, se si trasferisce lì, trova un suo equilibrio, magari, mangiano a casa, lei ha proprio bisogno, di una persona, lei non riesce a essere, autosificante, ha bisogno di qualcuno, che si prenda cura di lei, e, vedi che questa Pasquopula, le piace, proprio, prendersi cura, quindi, probabilmente, si sono trovate, magari, potrebbe essere, la persona giusta, le auguro questo, perché, lei l'ha detto, io ho sempre voluto una famiglia, ma, secondo me, lei, più che, essere una mamma, lei ha, proprio bisogno di qualcuno, si prenda cura di lei, lei piace tanto, essere, una principessa, essere servita, e aiutata, a far tutto, e quindi, forse, adesso, ho trovato la persona giusta, per lei, non lo so, vedremo perché, bisogna vedere se questa Pasquopula, è perfetta, come dice, o se è, perché ci sono alcune persone, che purtroppo, all'inizio, si mostrano, super perfette, fantastiche, poi dopo, vi come vedo insieme, capisci, che non sono proprio così, che era tutto, una maschera, ecco, per farti innamorare, da Pazzacchete, lo prendi quel posto, però, solo il tempo, ce lo dirà, qua, quindi, vedremo se riusciranno, a stare, più tempo insieme, magari, vedremo se è, vero, che sono, che è la coppia, sono la coppia, perfetto, oppure, sia tutto finto, e dopo, gli altarini, vengono fuori dopo, adesso, adesso, para, io mi sto affezionando, se dopo ti lasci, cioè, pensa alle figlie, già, io mi affeziono, e poi ci resto male, figurati le figlie, che ci vivono insieme, ma questo è un altro discorso, questo video è venuto lunghissimo, spero che, ti sia piaciuto, ti abbia fatto rilassare, come sempre, ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, creatura, grazie a tutti,